Daniel Romualdi, redazione di Cannalonga per Cielendo Channel, qui a Palinuro, presso l'Hotel Kings, in occasione del corso di aggiornamenti in ematologia edizione 2016. Ogni anno organizziamo un corso di aggiornamenti in ematologia, adesso sono diversi anni che lo facciamo, e quest'anno abbiamo scelto di farlo qui a Palinuro, in questa cornice bellissima dell'Hotel Kings. È un corso che vede la partecipazione di personalità mediche e scientifiche, sia locali che direi anche internazionali, perché quest'anno abbiamo anche la presenza graditissima di una nostra compaesana, una cilentana, una vallese, la professoressa Ricchio e anche il professor Ciriello, Anche egli lavora a Losanna, in Svizzera, sono due giovani docenti dell'università che si interessano di linfomi, che hanno fatto anche delle importanti scoperte, hanno lavorato per tanti anni negli Stati Uniti, a New York e adesso insegnano in Svizzera. E poi ci sono anche medici impegnati sul campo, sia a livello regionale che extra-regionale, il professor Pizzolo dell'Università di Verona, il professor Calapai di Messina, il professor Defeo dell'Università di Salerno, il dottor Pinto del primario ematologo del Pascale di Napoli, e quindi tante figure che vengono ad illustrarci i progressi nell'ambito dell'ematologia. Inoltre ci sono anche dei ricercatori locali, la dottoressa De Marco che lavora all'Università di Catanzaro e anche altri ricercatori del centro di riferimento oncologico della Basilicata, tutte persone che lavorano su vari fronti, sempre però con l'obiettivo comune di trovare soluzioni al problema del cancro. Quali sono i futuri progetti che lei intende portare avanti, oltre che quello lavorativo, presso l'Istituto Club di Rio Nero, ma a livello della ricerca? L'Istituto di Rio Nero è un centro di ricerca, quindi non soltanto di cura e di diagnosi, per cui noi facciamo anche ricerca. Attualmente siamo impegnati in uno studio che ha il supporto di associazioni di volontariato locali, i quali appunto Cilento Solidale e l'associazione Passarelli, che supportano uno studio sulla leucemia linfatica cronica. Stiamo studiando lo stress ossidativo per vedere se un livello di stress ossidativo più elevato possa rappresentare un fattore prognostico sfavorevole per quanto riguarda appunto questa patologia relativamente rara. Questa è stata una bella iniziativa di Giovanni D'Arena con l'Università di Salerno, il centro dei tumori. È un momento di formazione e quindi ha invitato varie persone che sono esperte non solo in nematologia, ma anche sul controllo dei tumori sul territorio. Questa prima sessione di oggi è stata molto interessante perché abbiamo visto come è anche importante l'agricoltura e lo stile di vita che pensiamo sia buono nel Cilento ma che sinceramente deve migliorare. Questo è stato uno dei messaggi importanti che abbiamo avuto durante la prima sessione di oggi. Buonasera, siamo felici di partecipare a questo bellissimo convegno. Ci complimentiamo con il dottore D'Arena e tutta la sua squadra per questo bellissimo evento formativo. Siamo qua come associazione a partecipare a questo convegno. Tra l'altro la sua associazione insieme all'associazione Cilento Terra Solidale di Canna Longa compartecipate al sostegno di un piccolo progetto di ricerca portato proprio avanti dal dottor Giovanni D'Arena. Sì, siamo felicissimi assieme all'associazione Terra Solidale di fare questa collaborazione con il dottore D'Arena. Le ricerche che si svolgono anche sul nostro territorio hanno una grande importanza e laddove noi possiamo essere utili sempre nel campo oncologico siamo sempre felici di poter dare una mano. Grazie. 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 Grazie.